Ciao ragazzi, allora stasera ho finito un po' prima con i cani e allora ho pensato di raccontarvi la terza parte di questa rubrica che ho iniziato, insomma la mia esperienza una storia ve la racconto a puntate, quindi questa sarebbe la terza puntata. Ecco vorrei raccontarvi una cosa storicamente abbastanza curiosa, quali sono stati i primi pastori tanti anni fa che io ho assistito con i miei cani, ma perché vi dico curiosa? Per dire la verità non sono stato io ad andare a cercare i pastori, io stavo allevando il cane da pastore, il pastore dell'Age Centrale, ma il mio obiettivo unicamente era quello di trovare dei guardiani ideali perché proteggessero la mia casa e la mia famiglia, qui dove ho deciso appunto di fare questa mia nuova abitazione con il posto da tenere cavalli, animali, cani eccetera adiacente, siccome era un po' isolato e nella zona li avevano già visitati un po' tutti, il mio obiettivo era quello. E che cosa è accaduto a un certo punto? Io ho fatto una delle prime cucciolate, tra l'altro non ero ancora andato né a cercare all'est di scoprire quali erano le genetiche di questi cani che io stavo allevando, che non li avevano portati, li avevo comprati, importati appunto da alcuni paesi dell'est, né tantomeno ero partito per i miei viaggi dalla Transilvania, che poi vi parlerò, dove mi ha chiarito molte cose sui lupi, perché laggiù di lupi ce ne sono molti e i pastori sono molto abili nel proteggersi appunto dai lupi. Né tantomeno ho fatto i vari viaggi in Asia Centrale, insomma nel Caucaso, nell'Anatolia, in tutti quegli altri posti che poi sono andato per fare un'esperienza con i cani e in certi posti anche per conoscere meglio il lupo, perché mi è subito interessato, non appena ho deciso di studiare questo, conoscere bene l'avversario, perché se si conosce bene l'avversario si riesce a conoscere meglio, come dire, come fare a contenerlo. Bene, allora, che cosa mi è accaduto? E credo che sia sui 16-17 anni fa, adesso non ricordo più bene, avevo una delle mie prime cucciolate e avevo messo degli annunci sui giornali locali che vendevo cuccioli di questa razza così sconosciuta che nessuno sapeva, adesso non è ancora molto conosciuta, ma una volta nessuno non sapeva cos'era il pastore dell'Asia Centrale. E mi telefonò, un pastore, qua delle Alpi Marittime, ma la parte proprio, il versante verso il mare, esattamente loro avevano la casa di campagna, diciamo il casolare dove tenevano una parte di animali, in una campagna lì vicino a Borghetto Santo Spirio, nell'entroterra. E portavano, o meglio, più che portavano, lasciavano tutto l'anno su una baita, proprio sull'altura, che da certe parti si vedeva il mare, era un paesaggio spettacolare, proprio lì in altura, un 400-500 pecore. E questo pastore era stato uno dei primi, per cosa risulta a me, ad aver capito quale poteva essere il business di produrre gli agnelloni per i musulmani. Quindi lui non mongeva queste pecore, non vendeva gli agnelli piccoli, ma li lasciava appunto con la mamma, insomma, vivevano un po' lo stato brado e dopo venivano poi prelevati per essere mandati al macello, quando avevano poi, non so, parecchi mesi, comunque si parlava di agnelloni. Allora lui mi telefonò e mi disse questa cosa, che mi incuriosì da subito, mi disse, guardi, ho letto che lei ha questi cani da pastore dell'Asia centrale. Siccome io ho avuto per un periodo di tempo una persona che viene dall'est, mi ha detto che questi sono imbattibili per poter proteggere il mio gregge dai problemi che io ho. Ma allora non si parlava ancora tanto del lupo, si sapeva che c'era, ma la gente come ad esempio questo pastore erano particolarmente concentrati su tutti i visaggi che creavano i cani dei cacciatori che magari venivano portati a caccia la domenica in montagna. A volte ce n'erano anche dei branchi interi. Poi alcuni venivano persi e questo pastore sosteneva che alcuni di questi cani, che poi non ritrovavano il padrone, nel padrone ritrovava loro, per potersi mantenere aggredivano questi agnelloni. A volte le pecore ne sbravano una parte e poi si davano alla macchia. E invece credo che era già un po' il pradellupo, anche se non sono così proprio sicuro. Però allora io per primo non avevo ancora sentito tutti questi problemi, specialmente qui dove abitavo io non si sentiva ancora nulla. Quindi in quel momento lì lui a me chiese una coppia, un maschio e una femmina. Io avevo solo una cucciolata, le diedi una femmina e poi successivamente un'altra femmina. E poi mi impegnai di cercargli appunto da un altro allevatore, un maschio, quindi lui ebbe in breve tempo un maschio e una femmina. Allora non vi dico il suo entusiasmo che ebbe da subito. Lui era praticamente disperato perché faceva questo tipo di pastorizia, lasciava le pecore un po' allo stato brado della montagna, scendeva giù, dormiva molte notti a casa dove aveva altri animali, poi prendeva, mi ricordo sempre, una ladaniva dove mi caricava. Adesso poverino questo pastore è morto ma ci sono ancora i figli e ci è ancora specialmente la moglie. La moglie ho portato pochissimo tempo fa ancora una fucciola di pastore dell'Age Centrale. Loro anche da quando è morto il marito e quindi hanno poi venduto le pecore, insomma hanno smesso questa attività, fanno altre attività di campagna, ma non hanno mai voluto mollare questi cani perché a loro ho detta che in campagna non ho avuti tanti, li hanno sempre ritenuti insostituibili. E quindi a questa signora che è rimasta vedova, che adesso insomma avrà già una bella età, anche lei, ho appena portato una femmina, ancora un maschio, gli ho appena portato una femmina, sarà qualche settimana fa. Comunque questo pastore che aveva questa ladaniva veramente la prima volta che mi ha portato, aveva solo il suo sedile, io mi sono caricato lì dietro insieme a dei sacchi di pane, del Mangime, forse non mi ricordo, siamo andati su, c'erano delle parti che salivano, caratteristiche di queste strade che ci sono in Liguria dove io dicevo secondo me adesso ribaltiamo l'incontrario, ma lui in perterrito, in prima con la ridotta andavamo su ed era stata una situazione veramente particolare. Allora nell'arco di poco tempo lui fu molto entusiasto di questi cani perché mi disse che non ebbe più neanche una predazione, ma specialmente notò da subito che questi cani, nonostante fossero entrati nel greggio, credo che le femmine avranno avuto sui 7-8 mesi e il maschio forse anche 9-10, non solo non gli crearono mai nessun problema a queste pecore, a questi agnelloni, ma addirittura a sua detta si attaccarono immediatamente al greggio. La stessa cosa fece il maschio. Allora noi andammo avanti per un anno o due che tutto andò perfettamente bene, poi purtroppo questo signore si ammalò gravemente e la notizia che io ebbi dopo alcuni mesi fu veramente sorprendente. Che cosa era accaduto? Che questo pastore, la sua malattia era precipitata improvvisamente, una sera l'avevano portato all'ospedale, i figli in quel momento non si potevano occupare delle pecore, la moglie doveva assistere il marito che mi pare che morì poi un anno dopo o più o meno il genere, ma ci era già gravata molto la situazione e loro sì, non dimenticarono delle pecore, ma le abbandonarono completamente con questi cani, consapevoli che non avrebbero avuto idea di cosa fosse potuto accadere in tutti questi giorni, in tutte queste noti che loro non avevano potuto, come dire, custodire il grege. Nel frattempo la situazione fu veramente molto curiosa perché neanche farla apposta, proprio in quei giorni tutte e due le femmine erano state regolarmente coperte da questo maschio che avevano e io non avevo il polso della situazione e questa signora non mi aveva detto niente, un giorno mi telefonò e mi dice guardi, è successa veramente una cosa che ci ha meravigliati, su in altura ci sono le due femmine che una da un lato in un, diciamo, anfratto di una roccia, una da una parte del grege e l'altra dall'altra però al riparo un po' di un tetto della baita hanno partorito dieci cuccioli l'uno, l'hanno allevati tutti e due e lei dovrebbe vedere il maschio che si sposta un po' da una femmina all'altro, veramente quasi collabora al mantenimento di queste femmine però i cuccioli tra l'altro dice sono tutti sanissimi, vedessi come sono grassi, dice ma la cosa pazzesca è che loro non avendo nessuno che le desse da mangiare si sono limitati ognuna a prendersi un agnellone, l'hanno ucciso, se lo sono mangiato, l'hanno finito praticamente tutto e hanno allevato i loro cuccioli cibandosi di questa cosa, ma loro erano molto meravigliati perché in passato avevano avuto grossi problemi con cani in generale che magari avevano attaccato dei soggetti del grege, li dovevano scartare dagli agnelli eccetera, dice immagini che questi cani si sono solo uccisi un agnellone a testa per potersi come dire mantenere, le femmine ne hanno litigato, ci sono messi a partorire lontano e specialmente il maschio non ha fatto niente, dicono crediamo che abbia mangiato anche lui una parte di questi agnelloni perché contando un po' il numero dei capi non ne mancano altri, non abbiamo trovato altri resti, non abbiamo trovato sangue eccetera eccetera e questa cosa mi meravigliò e fra le altre cose da questi cani partì poi una ulteriore mia linea di sangue dove era mezza di quelli che avevo creato io e gli avevo dato le femmine e mezza di provenienza di questo maschio. Ecco io mi accorsi subito che ciò che avevano sviluppato questi cani a livello di sopravvivenza, vivendola nei pascoli, nonostante fossero i miei cani era nettamente superiore a ciò che stavano sviluppando quelli che io tenevo qui nella mia proprietà e questo mi incuriosi subito tant'è che io salì molte volte in alpeggio per vedere qual era questa situazione eccetera eccetera e poi questo signore mancò e quindi la mamma si portò a casa i cani vendette tutte queste pecore e quindi loro passarono da come dire da fare la guardia ad un bestiame ad essere insomma non eccellenti ma comunque più che mediocri specialmente il maschio guardiani di casa. Penso che fecero ancora uno cucciolata che io tra l'altro rilevai una parte della signora li diede per conto suo anzi adesso mi ricordo in effetti è proprio così altri pastori presero questi cani qualcuno li presero dei privati insomma e parti anche questa discendenza da questa diciamo più che coppia tripletta di cani un maschio e due femmine che avevano vissuto questa cosa veramente sensazionale che oggi non mi stuperebbe più perché ho studiato molto cane sono andato molte volte nei pascoli dell'Asia centrale della Mongolia del Tibet del Nepal insomma ho girato un po' tutto il mondo ma allora non aveva ancora girato nulla e sentivo un po' parlare di questi cani da pastore ma voi pensate che ero talmente fuori da quello che era proprio l'ambiente dei pastori anche se mi erano sempre piaciute molto le pecore i greggi perché come vi ho detto nella parte precedente provengo da una famiglia diciamo da una parentela di pastori mia nonna paterna era una pastora mio nonno materno questo cacciatore di pelle che ha sempre avuto a che fare col bestiame commerciano in bestiame però in quella fase della mia vita io ero venuto qui avevo dieci cavalli avevo altri animali stavo iniziando appunto avevo già dei cani ma stavo iniziando ad approcciarmi con questi cani da pastore e nonostante si chiamassero cani da pastore io siccome l'avevo sentito anche dire tipo per il pastore tedesco ma non mi era mai servito a nulla per la guardia eccetera pronunciavo questa parola pastore dell'Asia centrale senza pensare che potrebbero che ciò che avrebbero potuto essere di grande utilità anche proprio per tutti quei allevatori di bestiame che salivano nei pascoli e volevano proteggere le greci e quindi io posso dire che proprio questa famiglia delle alpi marittime fu quelli fu proprio quella che mi iniziò ad incuriosire questa bellissima esperienza poi vuole ripeterla e di lì iniziai pian pianino a come dire a dare alcuni dei miei cani ad altri pastori poi iniziò questa storia del lupo proprio qui dove abito io in questi boschi insomma solo a 100 metri di qui due anni fa ci fu una predazione che tutti si stupirono e poi però arrivarono proprio insomma i tecnici che identificarono proprio in questo tipo di predazione l'intervento del lupo poi altri dissero che nella notte videro una mamma e due cuccioloni di lupo che scendevano dal bosco ma poi di lì non fu una novità perché non molto lontano di qui poi io assistetti per alcuni anni dei pastori che avevano molte pecore diede a loro parecchi cani e in tutte le fasi sia primaverili che autunnali prima di salire in alpeccio dovevano fare molta attenzione perché bastava che portassero nei boschi qui adiacenti le loro pecore sia all'inizio della prima mera quando facevano le prime uscite sia all'autunno quando si avvicinava all'inverno che i lupi si facevano sentire ecco praticamente ho voluto raccontarvi un po in questa terza puntata come io ho iniziato ad occuparmi di cani antilupo e qual è stata la mia prima esperienza che non sono stato io a cercare il pastore ma posso dire grazie a questo pastore che avendo saputo da un suo operaio dell'est che questi cani avevano veramente delle grandi capacità nel difendere grege era venuto a cercarmi e io con quell'occasione gli avevo dato i cani e poi avevo fatto questa esperienza che ricordo tra l'altro con grande nostalgia bene questa puntata è finita vi ho allegato qui il link se volete informarvi meglio di questo video corso che ho preparato per voi di sette ore ci sono filmati slide spiegate perché io ritengo che la gestione del cane da guardiani antilupo è fondamentale quindi è molto importante che i pastori non solo imparino in quel video corso io do delle dritte importanti a capire chi è e chi non è il vero cane da guardiani antilupo se ci sono razze particolari oppure no se conta il soggetto oppure insomma si può prendere un cucciolo qualsiasi e metterlo come capire più o meno che il cane se il cane è un buon cane da guardiani antilupo oppure no ci sono delle credenze che poi ho raccolto molte testimonianze ho fatto molti esperimenti al fianco dei pastori sono solo credenze ma non sono verità quindi seguirle non serve nulla in più insomma quella che deve essere la gestione proprio e specialmente la comprensione del carattere del cane da guardiani antilupo che è completamente diverso dall'altro cane da pastore che quello che serve appunto agli allevatori di bestiame a condurre il bestiame quelli che ogni tanto li sentite fischiano li fanno andare li fanno venire fanno radunare appunto i capi di bestiame però non ha nulla a vedere con questi cani che invece riescono se il branco ben organizzato se ben gestito se ben selezionato insomma bisogna mettere alcuni elementi insieme e questo videocorso vi aiuterà a capire un po queste cose poi si può scagionare una volta per tutti l'aggressione dei lupi perché non è assolutamente vero che cani da guardiani antilupo non possono essere utili a tenere i predatori e invece vero il contrario che se voi vi organizzate bene potete dire addio alle predazioni ma organizzare bene vuol dire partire con i cani giusti tenerli in quel numero sufficiente né in abbondanza con alcuni dicono né troppo pochi capire alcune strategie come dire di branco che vanno comunque osservate rispetto degli animali che noi stiamo gestendo alimentarli nel modo appropriato avere un certo tipo di rapporto fargli attaccare al greggio fargli affezionare al territorio cioè bisogna fare un percorso fatto il percorso che è quello che fanno ormai da migliaia più circa più di 10 mila anni i pastori di altre parti del mondo che per loro non solo è una novità è una cosa da tutti i giorni invece qua da quando è ritornato il lupo insomma sia in Italia sia per dire in Svizzera in altri posti adiecenti che mi telefonano molto spesso insomma vanno ancora un po' tutti a casaccio ed è il motivo che i risultati spesso tardano a venire quindi qua sotto vi ho allegato il link potete avere tutte le informazioni se vi interessa questo videocorso e vi auguro buona giornata vi ringrazio di avermi ascoltato fino a questo punto e vi do l'appuntamento appunto poi per la quarta puntata di questa storia che io voglio fare sulla mia esperienza inerente al cane antilupo ciao ragazzi a presto